Signore e signori, ma adesso profilo intero, oggi è un chiaro estero e un ecco attualmente siamo tutti amico Davide, siamo andati a passare, siamo in una zona più perigliosa d'Italia, andiamo a Taro, perché non è pronto adesso, vai piano, mi parlo avanti, ci passa il vostro gioco. Siamo andando a Taro, qui sono a Cisterna, è lì per l'Edi, il cosiddetto agglomerato industriale, incontro sopra le cozze, respira bene, dalle sicurezza di questo odore che fa bene la salute, questo è tutta salute, io non so come fanno a vivere in queste zone, ne abbiamo parlato più volte, ma sono tanti che vengono qui, la situazione è sempre questa. E' l'Edi che è un nuovo grande gasdotto che praticamente continua in per terra e va a riversare dell'Edi, a destra e a mano. Vai, 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 cammina e segui quello che ti dico io, non guardare il segnale, qua cambiamo le cozze dopo, vai, vai. Dove siamo passati poco fa? Eh, tu non te li mangi forse? Eh, che su Giuppolo invece lo segui. Vai a destra, destra. Segui per preghi, si. Vai tranquillo che non cade, vai. Adesso stiamo invocando, notiamo con piacere che hanno cambiato i guardrail che erano diventati rossi dal veleno di questo petrolkingo qui che continua in per terra e dopo più di 40 anni a inquinare qui, continuare dritto. E poi dopo segui sempre mattina a attra. Vai, vai. Oggi c'è un caldo proprio torri, noi siamo al 20 giugno. Siamo a finita mattina alle 7, dovevamo mattina alle 6, ma i miei amici come sempre hanno fatto un po' di ritardo. No, niente. Vedi, in caso questo piccolo, pregamento della torsia. Beh, questo. Continuiamo il nostro percorso. Abbiamo andato a fare uno scampio. Non uno scampio di coppia, ma uno scampio di veicoli. se poi troviamo qualcos'altro come dire che accettiamo regalie dai tranquilla dai a questo mezzo pochettissimo lo sto facendo tornare oggi perché io sono stato qualcuno l'altro il poveriggio sarò nuovamente qui perché devo andare a finire tranquillamente con la casa eccociato questo è stato